Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video e oggi voglio parlare, come avevo fatto qualche tempo fa, dell'importanza di saper anche analizzare l'andamento di una criptovaluta in base all'interesse dal punto di vista delle ricerche su internet che se ne fa. E quindi voglio farvi vedere, guardate, questo è il grafico dell'interesse di Bitcoin sul motore di ricerca Google, quindi sono nella sezione Google Trends di Google, che ci permette di vedere, ho messo negli ultimi 90 giorni, qual è stato il livello di interesse, quindi di ricerca, sulla parola, sul termine Bitcoin. Questo grafico che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere i numeri che rappresentano il search interest relativo al punto più alto sul grafico per una data regione e un determinato periodo di tempo. Quindi un valore di 100 vuol dire che quello è il picco di popolarità per il termine, un valore di 50 significa che il termine è alla sua metà in punto di vista di popolarità e ovviamente una score, un punteggio di 0 significa che non ci sono sufficienti dati per la ricerca di questo termine. Vedete come, guardate, qua siamo a... che periodo è questo storico? Fatemelo un secondo vedere. Il 7 dicembre, quindi diciamo 7 dicembre, ricordiamoci poi queste date. Qui stiamo sul 22 dicembre e poi qua 17 gennaio, quindi 22 dicembre e 17 gennaio. Guardate come, ragazzi, vedete come qui ci sono stati questi due picchi grandi, 7 dicembre e 22 dicembre, qua il 17 gennaio, scusate, non dicembre ovviamente. Ma voglio farvi vedere un'altra cosa, voglio farvi vedere, comparare questo grafico, facciamo clic su compare, con altre criptovalute, Ripple, eccolo qua. Quindi adesso mi mette in relazione l'interesse di Ripple rispetto a Bitcoin e ovviamente i suoi picchi, quindi fatemi cancellare qui un po' di cose, voglio vedere anche, non so, guardiamo Cardano, che è un'altra, è un'altra, Cardano Project, Crypto, che è stata, però forse non ho preso il progetto, il termine di ricerca giusto, rimuovi, fatemi inserire Cardano, Crypto, vediamo se esce qualcosa così, no, non esce, rimuovo, prendiamo Ethereum, giusto per mettere Ethereum, per metterli a confronto, eccoli qua. Vedete come ovviamente su Bitcoin c'è la richiesta maggiore, ma guardiamo l'ultimo periodo, diciamo, guardiamo gli ultimi sette giorni, vedete come è sceso l'interesse per Bitcoin, vedete quanto è sceso, e in realtà, qui si apprezza poco perché la scala che è usata è ovviamente una scala che non ci permette di vederla bene, ma in realtà è incrementato, vedete come Ethereum e Ripple ormai sono due criptovalute che generano lo stesso interesse, quindi piuttosto interessante vedere questa rappresentazione. Vi consiglio di guardarla spesso, i Google Trends, sulla criptovalute che state seguendo, perché troverete poi delle relazioni, ovviamente, a quello che è successo nel passato. Andiamo a vedere, da punto di vista dei grafici, che cosa è successo il 17 gennaio, e forse ve lo ricordate molto bene che cosa è successo, perché il 17 gennaio è, eccolo qui, è dove Bitcoin ha toccato il suo minimo dopo il crollo e dopo i massimi, guardate, qui stavamo a dicembre, il 18 dicembre, vedete che Bitcoin era sceso, è sceso, è sceso, è sceso, e dove c'è il picco di ricerche sul gennaio? Ovviamente quando era i minimi storici. Poi le altre due date erano, le altre due date, andiamocele a, fatemi rimettere 90 giorni, me le sono dimenticate, scusate. Allora, una era, fatemi fare un bel refresh, ok, allora, una era il 7 dicembre, e l'altra era il 22 dicembre, quando proprio c'è stato il picco, quindi andiamo a vedere un po', 7 dicembre, eccolo qui, mi ricordavo bene, è questo, è la prima volta che Bitcoin, insomma, Bitcoin veniva fuori da questa enorme pompata che c'è stata sul mercato, e qui dove aveva toccato i 20k, i 20.000 dollari, i suoi massimi, che poi andate a ritoccare qui sopra, e infatti, l'altra data, eccola qui, è quando ha ritoccato i minimi. Quindi vedete come i picchi di interesse, e questo è molto importante anche per capire quando investire, quando chiudere posizioni, perché ci sono sempre in due momenti particolari, cioè in momenti di grande paura, quando il mercato non sa che sta succedendo e deve andare ad informarsi, e quindi fa tantissime ricerche, e in momenti in cui c'è enorme interesse, quindi c'è avidità, ok? Perché la gente vuole entrare, vuole guadagnare, magari prima di farlo, che cosa fa? Va a fare le ricerche. È molto importante, io l'ho sempre, questa tecnica diciamo di utilizzare i Google Trends, per capire quanto, e ci sono anche strumenti che vi dicono gli interessi dal punto di vista dei social media, sono altri tool che utilizzo, perché li uso tanto nel mercato azionario, per capire qual è l'interesse dietro allo stock market di una determinata azione, però comincerò ad utilizzarlo anche per le criptovalute, e devo dire che ovviamente funziona. Ragazzi, questo video era veloce, ma semplicemente per farvi vedere l'importanza di questi aspetti che vanno tenuti in considerazione, perciò che dirvi? Ditemi se questo video vi è stato utile, mettetemi un like, lasciatemi un commento se voi usate altri strumenti, invece per misurare l'interesse che c'è dietro ad una determinata chiave di ricerca o parola, come al solito siamo una grande community, mi fa piacere soprattutto che anche voi condividiate la vostra esperienza, i vostri software, i vostri tool, io ogni volta imparo qualcosa di nuovo lo metto qui sul canale, quindi fatemi sapere qual è invece la vostra opinione, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione e buon trading a tutti, ciao!